Punto 1. Non ci sono profughi in arrivo verso la regione Marche, ad oggi. Chi sta rientrando in Italia, sono circa 2000 persone, attraverso il Veneto e attraverso il Friolo Venezia Giulia, lo fa con mezzi propri, sapendo già dove dover arrivare, cioè magari hanno già quei parenti, famiglie, persone che conoscono, noi vengono già di loro iniziativa. Lo scrupolo che in quelle realtà hanno è di verificare se sono no vaccinati. Se mai nelle Marche dovessero arrivare tramite corridoi umanitari o altri tipi di iniziative, profughi, noi ovviamente, al pari di tutta l'altra regione, faremo quanto è dovuto per poter alleviare le sofferenze di queste persone ed accoglierle al meglio. Conseguentemente noi siamo predisposti all'accoglienza e pronti, qualora ci siano iniziative, anche attraverso l'utilizzo potenziale, non è detto che sarà così, di un Covid hotel che noi oggi abbiamo a disposizione, 20 stanze per 40 posti, perché sono stanze doppie, due solo sono occupate attualmente, è contrattalizzato fino a fine marzo, quindi ancora è a nostra disposizione, potrebbero essere anche per le settimane successive, però ripeto, ad oggi non c'è questo tipo di richiesta, magari forse non ci sarà neanche. Per quel che riguarda, voglio fare un richiamo a questo, tutte queste iniziative di singole associazioni, i singoli cittadini, del tutto meritevoli, cercano cibo, indumenti, altri tipi di... Oggi non c'è, per quel che riguarda le marche, ma è un po' in tutta Italia, una richiesta di questo genere. A meno che queste associazioni o anche questi privati non abbiano un rapporto diretto, può succedere a volte con un'associazione di quei territori o con famiglie di quei territori, dove loro sanno già dove poter inviare questi materiali, altrimenti spesso che succede? Che raccolgono, poi chiamano i sindaci dicendo noi abbiamo raccolto queste cose, dove le possiamo inviare? I sindaci chiamano la protezione civile regionale, la protezione civile regionale dice mettetelo in un magazzino perché in questo momento non c'è un canale, diciamo così, di invio di alcun materiale verso quelle zone. Magari ci sarà domani, ma ad oggi ancora è così. Magari ci sarà domani, ma ad oggi è così.